Hi everyone, it's me, Auri, e oggi siamo in questo nuovo vlog con un annuncettino Il primo annuncetto che è quasi pronta, la serie E si ragazze, Imperfect è alle porte e è quasi pronto Ho già alcune idee, perché prima non avevo idee e quindi ora che ce l'ho posso finalmente fra poco fare il primo episodio Forse fra poco lo farò uscire Poi non sto registrando con Paris perché ha ancora da fare Volevo dirvi ragazze che avete ancora 9 giorni per inviarmi le foto, quindi sbrigatemi Perché se non le invierete poi sarò solo con due foto, cavolo No, ne ho tre, ne ho tre Quindi ragazze affrettatemi perché tengo molto a questo annuncio Non è proprio un vlog, è un altro video annuncino Volevo dirvi anche che farò altri swap Farò con Miss Jordan, che era Jordi Otaku Non so il giapponese, sorratemi E poi It's Me White E Ladia LPS Ladia LPS Production Team Mi sembra che si chiama Che era la vecchia LPS Il primo aggiornamento è che come sapete quasi tutte Ho il secondo canale, ma ho cambiato il nome e eliminerò dei video Ragazzi non faccio più video con Kaila LPS Per problemi teleogrammi Si chiama Ali LPS Production Vi lascio un commento con quel canale Voi vi iscrivete se volete Noi ragazze, io vi mando un grande bacio e al prossimo video Ciao